Benvenuti nel salone estetico Why Not Beauty di Reggio Emilia, un ambiente curato e completo di servizi all'avanguardia. Scoprite le novità come le lampade al collagene, le quali, stimolando la sintesi di vitamina D, donano una bronzatura impeccabile senza intaccare la salute della pelle. Tecnologie estetiche di ultima generazione per combattere inestetismi e segni del tempo. VN Trainer, il percorso fitness e di dimagrimento più all'avanguardia ed esclusivo del territorio, comprensivo di Body Shape, Infra Shape ed EMS Fitness, ovvero Eletromio Stimolazione. Musica Il salone offre inoltre tutti i servizi di estetica di base, epilazione laser, permanent make-up e servizi wedding. Musica Venite a trovarci presso la sede Why Not Beauty di Reggio Emilia. Vi aspettiamo in via Michael Faraday 9M, zona Pieve. Musica Ci trovate anche su Instagram e Facebook come Chiocciola Why Not Beauty Salon. Musica Musica